Incarico di prestigio per Don Andrea Giampietro, giovane sacerdote brinisino scelto dal di Castero per l'Evangelizzazione dei Popoli, dal pro-rettore, sua eminenza il Cardinal Luisa Antonio Tagle, come vice-rettore del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fidei di Roma. Don Andrea, che compirà 36 anni il prossimo 9 settembre, lascerà Brinis e la parrocchia Santissima Resurrezione del suo quartiere Cappuccini, per raggiungere la capitale nelle prossime settimane, a pochi passi dal Vaticano. Un motivo di orgoglio, ovviamente, per tutto il territorio e per la diocesi di Brindisi-Ostuni. Il Civescovo Intini di Brindisi mi ha comunicato la richiesta che gli era pervenuta da parte del di Castero, mi ha aiutato nella scelta, nel sostenere, nell'accettare questa scelta. Devo dire che mi sento molto tranquillo, questa è la parola forse migliore che mi dà anche serenità, perché non è una cosa che io ho cercato, non è una cosa che io ho chiesto, non so come abbiano scelto me. Quindi mi sento solo così, come una piccola persona, un piccolo sacerdote che sta andando a dare la sua esperienza con l'aiuto di Dio. Quindi la vivo con molta gioia e come un'opportunità che il Signore mi sta prendendo. Io sono grato al Signore perché in maniera, per me, immeritata onestamente, però ho avuto modo di entrare nella vita di tante persone, di conoscere e di dare il Vangelo un po' a tante persone, dai più piccoli ai più grandi agli anziani, sofferenti, ed è questa la cosa più bella che porto con me. Pensando però anche che è un allontanamento, sì, però è anche vero che le amicizie che si hanno nel cuore, poi dopo quelle non finiscono mai, quindi è un tornare sempre alle radici, anche quando si è lontani.